Io mi sono divertita, il pubblico si è divertito e si è visto che si sono divertite anche le ragazze e questo era l'aspetto su cui avevamo puntato, nel senso che c'è chi ha cambiato città, c'è chi ha fatto scelte di vite, c'è chi addirittura ha cambiato continente, non per venire a giocare le partite normali, ma per venire a giocare queste partite. E quindi era giusto godersela e mi sembra che l'abbiano fatto. Poi è andato bene, sicuramente abbiamo messo in mostra le nostre qualità migliori, a cominciare dal portiere che è stato splendido, tutte si sono sacrificate, hanno segnato se non sbaglio un po' quasi tutte, solo forse i difensori non hanno segnato, ma sono state tutte sempre protagoniste del gioco e questa secondo me è una cosa importante. Abbiamo anche gestito, amministrato sicuramente l'ultimo tempo, anche specialmente l'ultima parte dell'ultimo tempo non mi è molto piaciuto, loro sicuramente hanno cambiato atteggiamento, erano molte più aggressive eccetera, però secondo me si è concesso un po' troppo, nel senso che fino ad allora difendiamo bene, la cosa che mi piace è che rischiamo veramente poco in difesa, cioè prendiamo i tiri che dobbiamo prendere sapendo dove tirano e rischiamo veramente poche palle al centro. Quindi se limitiamo le espulsioni in ripartenza è difficile con noi prendere un uomo in più, infatti nei primi tre tempi ne abbiamo presi veramente pochi e quando le abbiamo presi le abbiamo difeso in maniera eccezionale. Sicuramente siamo andati un pezzettino avanti, abbiamo iniziato bene dall'inizio, abbiamo preparato parecchio questa partita, sicuramente era importante vincere per i tre punti e tantissimo per il morale, poi ovviamente si vedrà tutto alla fine, ma era importante portare a casa questa vittoria. Siamo partite concentrate dall'inizio alla fine, sicuramente un'ottima difesa. Si sente, si sente l'assenza di Valeria, sicuramente appena rientrerà saremo ancora più forti.